Finisce qui, finisce qui la partita ovviamente, non mi vengono le parole, finisce qui Roma-Fiorentina 2-0 Che dì regà, che dì, siamo col sorriso, senza smadonne, per una volta partita quasi perfetta della Roma Dico quasi solo perché potiamo fare più gol, per come si è messa la partita e le potevamo fare, scusate, anche 5 secondo me Se avessimo concretizzato molte più azioni, ma anche di più in realtà, perché la Fiorentina ragazzi è stata annullata completamente Annullata completamente la Fiorentina, non ricordo sinceramente, allora, a parte i primi 5 minuti meglio la Fiorentina Manco 10, dato i primi 5 minuti, non ricordo altri tiri in porta, forse uno di qua me, ma niente di che Stavamo già sul 2-0, ma poi era un tiro normalissimo Noi che ci manca la conclusione, ma anche l'ultimo passaggio comunque più di qualche volta Arriviamo al vantaggio con, già mi sono dimenticato chi Arriviamo al vantaggio con il gol Col gol di Spinazzola, ecco non mi veniva E soprattutto perché gli ultimi minuti comunque è stata Una partita molto, non dico noiosa, però comunque La Roma gestisce, appunto arriviamo al gol con Spinazzola Che Arriviamo al gol con Spinazzola, che fa una bella azione Un errore della difesa, perché comunque due giocatori su Dzeko Dzeko la liscia, loro la lisciano E Spinazzola va davanti al portiere, sbaglia il passaggio per il giocatore in mezzo E poi la palla di Lima è lì e segna Poi arriverà al 2-0 su un'azione con Giacomo Idenen e poi Pedro che la butta dentro Comunque ragà, come ho detto, partita quasi perfetta dalla Roma Solo che potiamo fare solo più gol Che dì, partiamo i singoli giocatori Il Mirante in porta si riconferma nelle uscite, nei passaggi Con i piedi, un buonissimo portiere Ti dà proprio quella sicurezza Linea difensiva perfetta ragà, Smalling ci serviva come il pane Ti dà anche lui una sicurezza là dietro Incredibile, i Bagnets mi è piaciuto un botto Secondo me ragazzi i Bagnets diventerà fortissimo Se continua così Tanta roba anche lui, tanta roba anche Mancini ovviamente Anche lui perfetta la partita Karsdorp non male, non male, anzi Ha fatto comunque, non ha fatto la partita da 10 Però ha giocato bene, come resta dalla squadra Vere tu, benissimo Anche lui però poteva concretizzare qualcosa in più Però benissimo nel suo ruolo Pellegrini anche molto bene A sinistra Spinazzola, gol E comunque Oggi anche ha saltato poche volte l'uomo Però comunque ha fatto il suo Pedro e Mkhitaryan, giocatori pazzeschi Ragazzi ogni volta che vedo Pedro che perde palla Torna dietro se fa uno scatto di 30 metri Per aiutare la difesa A 33 anni ti fa capire quanto cacchio è forte Pedro Cioè un giocatore, un'esperienza pazzesca Idem per Mkhitaryan Che forse si è sacrificato un po' di meno Probabilmente lo stesso Dzeko ha fatto la partita da Dzeko Il primo gol comunque anche a merito suo Indubbiamente E nient'altro ragazzi Fonseca l'ha preparata perfetta Ora ditemi anche voi qua sotto Come secondo voi L'ha sbagliata Iachini Totalmente Partendo Cioè con due punte Che non erano due punte Che erano Cagliecon e Ribéry Oppure è stato merito di Fonseca Che ha reso la difesa insuperabile Il resto della squadra perfetto A parte la fase realizzativa Alla ci deve ancora un po' lavorare Però ragazzi Tanta tanta roba Complimenti a Fonseca Appunto poi sono entrati Cristante Bruno Perez E Cumbulla Poi non mi ricordo se qualcun altro Però comunque Bene Nessuno ha spaccato Carles Perez Nessuno l'ha rispaccata Però Va bene così Buonissima vittoria Vittoria importante Che è arrivata già per la Lazio oggi Quindi non andiamo sotto la Lazio Vittoria contro la Fiorentina Che come organico Ha una squadra fortissima Però è stata completamente annullata E Che dire ragazzi Vittoria giusta Giusta Speriamo Voglia dire tante altre vittorie E più che altro Speriamo Fonseca Tenga questo trend Di partita Quasi perfetta E che migliori L'unica fase che va migliorata Ovvero quella realizzativa Per il resto Nient'altro Domani Alle 3 Quindi alle 15 Uscirà la live reaction Sempre mia Mi raccomando Guardate L'attivata la campanella Iscrivetevi ragazzi Se non siete iscritti Iscrivetevi Post partita Live reaction Della Roma Poi ho video su FIFA Ne arriveranno anche su Ultimate Team Molto probabilmente Poi che altro Reaction Sul canale Comunque trovate tutto Iscrivetevi Io ragazzi Nient'altro da dire Dagli Roma Dagli Fonseca Miglioriamo anche la fase realizzativa E stiamo al top Nient'altro da dire Ora Non so se c'è in realtà L'Europa League Stasettimana O no Non mi ricordo Però vabbè Comunque Troverete sempre Post partita Live reaction Sul canale Noi ragazzi Io non c'ho nient'altro da dirvi Forza Roma sempre Partita Quasi Perfetta Dagli Roma